Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili a causa di un incidente chiusa l'entrata di Lastra Assigna in direzione Firenze, sulla carreggiata opposta in direzione Livorno, code tra Firenze Scandicci e Lastra Assigna. Per lavori sono chiuse le uscite di Livorno Aurelia e Livorno Porto in direzione Firenze. In A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, un chilometro di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sul raccordo Siena-Firenze possibili disagi per la chiusura dello svincolo di Poggi Bonzi Nord. La viabilità cittadina a Firenze chiusa via San Leonardo per lavori tra via di Belvedere a via Schiapparelli. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!